vedere napoli attraverso gli occhi di chi la vive sabato scorso come in una grande passeggiata per la città decine di fotografi hanno documentato con i loro scatti l'arte e la vita di varie zone di napoli l'iniziativa si chiama na foto ed è a tema libero per lasciare ampio spazio all'inventiva degli autori è stata organizzata dalla testata donne manager di napoli con il patrocinio dell'assessorato alla cultura e la collaborazione dell'associazione scrivendo con la luce una iniziativa molto carina speriamo di fare una passeggiata simpatica divertente sarà una bella esperienza anche di grande socialità saranno selezionati gli scatti che formeranno cinque video per pubblicizzare napoli in diversi punti di diffusione locale e nazionale e noi abbiamo seguito fra gli altri il gruppo che si è dedicato ai quartieri spagnoli conserva ancora una autenticità partenopea molto mischiata alla contaminazione di delle nuove migrati e che qui sono ben integrati e mi è stato chiesto anche di far fare questa integrazione questo aspetto positivo che ha la città di napoli e poi i quartieri hanno anche un aspetto architettonico molto interessante perché queste sono le costruzioni spagnole che sono state costruite nel seicento il tracciato viare è rimasto lo stesso il fascino appunto dei quartieri anche questo questa commissione tra l'antico e il moderno diremo nazional popolare che sono le cose che poi delle cose che studenti che poi rendono affascinante il napoli in generale e i quartieri in particolare che sono i quartieri in particolare Grazie a tutti.